Tu forse sei tra gli stranieri che negli ultimi anni ha mantenuto un rapporto fortissimo con la città di Napoli che va oltre il semplice indossare la maglia azzurra e allora questo rapporto come si è formato negli anni? Perché tu sei arrivato 11 anni fa e a distanza di 11 anni comunque spendi sempre bellissime parole e quando arrivi in città sei sempre molto amato ai tifosi No, per me la prima cosa è perché questa città lo amo, grazie a loro sono diventato sia come calciatore anche un grande uomo perché ho dato il massimo, ho dato il massimo, il mio potere che potevo fare per cui loro sono stati sempre gentili con me, Napoli sarà sempre nel mio cuore Te lascio dire dire direttamente ai tifosi del Napoli che ci stanno guardando cosa ti senti dire ai tifosi che poi quando tu vieni in città ti fermano e ti abbracciano come se fossi ancora uno di loro Ragazzi, grazie mille, sarete sempre nel mio cuore, grazie a tutti Ciao, a presto